Se tu facisci il suo bello subito, qui tu guarda le grissime, non tu vuoi in certe amore. Pigliatelo che mi vengono qua a casa. Sì. Alla prossima, sicuramente, ci vediamo la giorni. Abre! In questi giorni. Io non vado mai. Buongiorno, buonasera. Buongiorno. Ciao! Buongiorno. Ciao! No, è l'ultimo. Sto riuscendo ora. Sabri, dai un attimo, mi devo dare il numero. Se mi dovete mandare, io mi devo dare il numero. Questo, Sabri, Sabri, qua. Ah, guarda, ok. Allora aspetto come mi mando, ok? Buonasera. Ah, ok, ok. Allora ti aspetto su whatsappo che mando, ok? Scusa, perché se li fanno? Sì, quello li devo stampare io. Io lo stampare li devo validare. È uno giallo che porta la clip sopra. Delle lentine. E questo cavolo? Eh, sì, 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 vedere la tua mamma. No. Ok, va benissimo, ciao. Ah, sì. Sabri, questa è l'interno. Eh, ma io uno ce l'ho qua. Che prezzo fai? Non me li manda lei? 9,90. E poi ci ho matto. E poi non ho scelto. E poi ho bisogno di việcare. E poi ho bisogno di việcare là, perché ora facciamo. Al mattino uno si apigliato le lire, poi si apigliato la marrona, poi si apigliato il marrona, poi c'evole lezioni, poi le scelto le lezioni a metà, e poi ci venne lì che facciamo. Da nò parlava con l'aiuta a metà lì. E come è successo? Hai chiamato di metà lì, è 12-4-0. ma questi sono bellissimi ma non so mamma mia questi sono belli no questi no questi sono belli fammi vedere questi no questi sei lì questi sei lì no eccoci il video 15 anche i metri dell'originale l'ambrosio non so non so non so non so non è capace grazie 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 sono questi vedi la cassa la cellulazione c'è il buone grazie è vero che la legge sono i colori che non esistevano che ho parlato allora quelle di Imma sono queste quelle colorate queste sono i colori che non esistevano allora se la mia città la mia città eccola qua eccola qua lei è Letizia le lentine te le abbiamo ordinate arrivano lunedì martedì mattinato questo l'abbiamo fatto e l'altro 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 perché quella che non può essere il sacito è tapone io me la posso mettere le mie che mi sono rimane sono solo del destro e uno è cinza ma io se ne sono ok bravo ora c'è che questa è qui siamo quanti se ne sono questa è la differenza ma io tu le più che cose vuoi a quanto stanno guarda in questo questo è qui perché magari uno di quelli là non è la normale rimanate qui comunque come una rata l'impresa e due le anni ma anche ti le vanno a prendere ma scusa io lo stavo la sorella e di voi se ne volete dire ma lo fa sale ma le deve pagare senza di sì ma le deve pagare non lo so non ha fatto niente ma non lo so se le ha pagate ma sono le lettine di Anna meno 2,25 queste sono le suoi colorate eh a te hai ragionato sono due sono due e poi le vediamo a scrivere non lo so le vediamo a scrivere la buona puntata scusami dove è ma deve pagare Anna no no c'è un cacolo ah c'è un cacolo prende allora ragazzi su raccomandare qua queste sono dei bucci scusa queste sono dei bucci ah ti dico solo Anna ma scusa di due chiamando i due mani le due sono due scatola mia va bene ti vai in fase è il scatola rossica accomodati qua accomodati qua è il cacolo qua è il cacolo qua sta bello sta bello è ma perché finisce ho bello ci sono gli occhiali con l'acchiccio che diceva tua sorella ma lei ti manda la foto questi qua signora sono quelli là che dice t'ha colto perché quello che diventano la sorella vedete voi decidete con lui quale modello vi posso dare meglio Oh, serenissima e scettissima. Ma tu hai visto? Che spizzo sarebbe buono, eh? Che spizzo, non ti ho visto. Eh, eh. Questo non ci piace a mille. Il colore della lente è sempre quello che vuole. Questo non è il tuo, eh? Vedi che fanno pure di lato, la stagetta. Non dice che avevo lì, questo parato. Sì, sono. No, ma questi sono molto più commerciali. Sì, sono. Sì, è vero, eh? Sì, è vero. Non lo capisco, se non lo capisco. Non lo capisco. Ah, ok, ok. Non lo vedete. Eh, guarda però, se non lo capisco. Eh, guarda però. Ma che mi ha fatto senza? Eh. Ma a me non lo capisco. Non lo capisco. Non lo capisco. Perché quello ecologico è? Sì. Buona, è vero. Se ti hanno composto, non sa. No, non lo capisco. Ok, tutto direi. Una volta in pratica. Ok. Non c'è una relazione. Grazie a tutti, grazie. del lato qua? la città è pronta? ah però no, si, mi arriva argento martedì come dice il mezzo argento dalla lente di argento dopo ieri con la lente negra perché il verbo è lento come è successo con chi è accadda al cielo sempre e per ogni sempre lascerà questo oggi se fu poi signora io vi dico che per comodità e per sorriscia e soprattutto se vi si addormenta con l'occhiale con questo avete capito? per fare quello che vuole queste sono satinate e queste sono lucide però sempre buone che le c'è? sono più leggere sono più leggere e vengono pure meglio perché stanno più piccole non solo devo usare le spessore va bene ma non c'è? no, non c'è ok ma non c'è? non c'è? non c'è? ma hai usato la musica? è giunto che è? Grazie